Perché nasce questa idea delle docce? Questa idea noi abbiamo avuto la grazia, grazie alle persone che vedete qui a quanto a noi cinque anni fa, di dare loro la possibilità di accogliere i più poveri senza fissa dimora e di farli sentire a casa. Quindi piano piano, da un inizio timido, abbiamo fatto tanti progressi insieme con loro, sentendoci in una famiglia e facendo sentire i poveri in famiglia. Com'è stata questa esperienza? L'esperienza è sicuramente la più bella che si possa avere in una vita, perché queste persone donano tantissimo, ma non è un modo di dire, non è una frase fatta, ma è la verità. E quindi anche l'esigenza di farli stare bene, ecco perché abbiamo ristrutturato le docce, ecco perché abbiamo cercato di farle bellissime, perché le persone vanno anche rieducate al bello, perché le persone hanno il diritto di avere qualcosa di confortevole e di piacevole. È tanta la richiesta di aiuto da parte di queste persone? La richiesta è alta, sì, tantissimi italiani, tantissimi extracomunitari, soprattutto nel periodo estivo arriviamo a fare anche 30 docce al giorno, e questo vuol dire appunto tanto impegno da parte dei volontari, perché le nostre docce sono anche un po' particolari, cioè noi il telo doccia è tutti i giorni profumato, fresco e morbido, abbiamo tutte le chicche che avremo in casa. Che cosa ne pensa di questo gesto, soprattutto in questo periodo così brutto che stiamo affrontando? Beh, è molto bello, anche bella come organizzazione, questo non solo fornire dei servizi, ma far sentire in famiglia coloro che possono accedere a questi servizi, e di conseguenza veramente fare dei servizi alla persona, non solo al bisogno. Ecco, questo penso che sia fondamentale. Quindi per fortuna che ci sono delle anime buone anche in questo periodo? Sì, decisamente, anzi direi che proprio in questo periodo del Covid, se da una parte ha fatto emergere tanta epidemia, ha fatto però emergere anche tanta solidarietà, e una solidarietà sincera e soprattutto impegnata.